Marcello Pili, medico di famiglia di Ostia, ha già vaccinato 1.300 dei suoi 1.600 pazienti. Un grande risultato non solo personale, ma per un'intera categoria, quella dei medici di base, che si sta rivelando fondamentale per raggiungere le fasce di popolazione più fragili e diffidenti. È stata l'occasione anche per ribadire un po' l'importanza della medicina generale, cioè della medicina di prossimità per l'assistenza sanitaria in generale e per cercare proprio di dare una svolta a questa campagna vaccinale che aveva, come abbiamo detto, alcune difficoltà. In particolar modo ad arrivare alle persone che erano più restie a vaccinarsi in qualche modo per problematiche di convincimenti, anche sbagliati, che magari venivano dai media. Questa è una cosa molto importante. E anche per quelli che non potevano raggiungere né i nostri studi medici né gli hub vaccinali per impossibilità di spostarsi dal proprio domicilio. Noi abbiamo fatto tantissime vaccinazioni a domicilio, sia per i pazienti francamente intrasportabili, sia per quelli per i quali era considerato in qualche modo pericoloso raggiungere gli hub o raggiungere comunque sia gli studi di medicina generale. Ma abbiamo seguito le indicazioni e abbiamo raggiunto numeri, secondo me, notevoli. Abbiamo fatto giornate in cui in questo studio abbiamo vaccinato anche 200 persone. Nel totale parliamo di migliaia di vaccinazioni effettuate dentro questo studio. Adesso il prezioso lavoro portato avanti da Pigli e i suoi colleghi potrebbe subire un significativo rallentamento. Il problema è che poi c'è arrivata da poco la comunicazione, la settimana scorsa la comunicazione che non potevamo più effettuare prime dosi ma potevamo fare solamente richiami a pazienti già vaccinati e di conseguenza questi pazienti sono rimasti senza possibilità di essere vaccinati quantomeno da noi. Il problema è che questi pazienti negli hub non vanno proprio perché fanno parte di quella categoria di pazienti che hanno bisogno comunque sia di una parola di rassicurazione da parte del loro medico. La comunicazione è arrivata poco fa, sembra che debbano arrivare ulteriori dosi per poter fare prime vaccinazioni ma sembra che anche queste dovrebbero essere destinate agli hub e quindi il problema in qualche modo comunque sia permane. Ci terrei infatti a sottolineare che solo la settimana scorsa abbiamo dovuto disdire un centinaio di appuntamenti qui nello studio di persone che comunque sia avevamo selezionato per fare la prima dose del vaccino ma che non possiamo fare per la carenza di vaccini. Speriamo di poterli recuperare a breve.